e buonasera a tutti quanti benvenuti a primi calci la trasmissione di radio milan inter dedicata proprio al calcio giovanile e non professionistico allora giusto qualche dato il calcio dilettantistico in italia e anche quello giovanile rappresenta il principale movimento sportivo italiano e i dati sono lì a dimostrarlo 13.389 società di cui 10.071 dilettantistiche e 3.318 di puro settore giovanile il che vuol dire che un italiano su 56 risulta tesserato per una società di calcio dilettantistico o giovanile numeri davvero impressionanti e una delle società con i numeri più incredibili l'abbiamo quest'oggi in trasmissione qui con noi si parla della lombardia 1 una di quelle società che fa del settore giovanile il proprio scopo della vita tantissimi giocatori tantissimi tesserati tantissimi ragazzini e loro subito a presentare gli ospiti di questa sera che sono paolo gatti il presidente di lombardia 1 buonasera il fondatore fondato fratello del presidente perfetto e massimo innamorato innamorato allenatore dell'attività di base esatto piacere ciao a tutti allora iniziamo subito a parlare di lombardia 1 con uno dei fondatori lombardia 1 è davvero una delle squadre in lombardia in italia in europa con il maggior numero di giocatori iscritti come si fa ad arrivare così in alto non so se in alto è come si fa a essere così stupidi nel senso da avere circa oggi siamo un migliaio 984 per essere precisi tesserati siamo stati anche oltre i 1200 ultimamente è sempre più difficile fidelizzare questi giovani calciatori ma soprattutto le loro famiglie i numeri sono importanti siamo stati la sesta scuola calcio d'europa e la prima è d'italia come numero di tesserati è senza parlare di qualità di servizio puramente numeri oggi numeri dopo le elezioni contano quindi magari contano anche questo è sicuramente allora è come nasce come nasce questa lombardia 1 da che anno viene fondata adesso hai detto numeri incredibili per quanto riguarda i tesserati per così tanti giocatori immagino abbiate uno staff dirigenziale notevole con allenatori accompagnatori dirigenti dai qualche numero allora sono 61 squadre 61 con 110 dirigenti accompagnatori e 84 allenatori compresi ovviamente gli allenatori dei portieri preparatori dei portieri l'idea è stata inutile che non faccio finta di fare il modesto l'idea è stata mia di 24 anni fa sono un figlio di quarto giaro è una società che mi ha formato è stata l'aldini da cui ho preso tantissime cose buone forse lasciandogli le pochissime che non andavano bene e decisi di fondarmi una mia società sportiva fine proprio ovviamente l'idea è stata quella di un insegnante di educazione fisica giovane che voleva avere la propria società sportiva e così è nata e il nome come nasce lombardia 1 il nome che è brutto non mi piace neanche guardate cosa vi dico me lo sono trovato è stato diciamo un mio vecchio socio nel senso che oggi purtroppo non c'è più ed era già anziano quando mi passò una prima concessione in essere che era quella del pala 1 che 24 anni fa era un un centro per abusivo per tossicodipendenti e destracomunitari e io lì dentro ci ho fondato la società sportiva che oggi tutti conoscono o tanti conoscono e da casa lo possono immaginare prima sono stati spostati i tossicodipendenti quant'altro adesso ci sono solo bambini a giocare ma questo è importante sottolinearlo che magari qualcuno da casa si preoccupa qualcuno alla sera torna ancora ma di notte con i furti e i vari danneggiamenti che noi abbiamo mensilmente purtroppo ha proprio una caratteristica i centri sportivi sono i centri sportivi sono nelle periferie milanesi oggi tutti come dire tutti i politici parlano di recupero delle periferie noi viviamo le periferie purtroppo vuol dire anche questo quindi è un bene è come essere in trincea è come essere in trincea tra l'altro una guerra da vincere ovvero quella di creare nuovi esseri umani nuovi uomini decisamente migliori grazie allo sport allora parliamo con Massimo Massimo tu sei allenatore proprio dell'attività di base attività di base si intende i bambini i piccoli fino ai dieci anni giusto? Assolutamente sì 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 diciamo che dai quest'anno 2011 arriviamo fino ai 2007 che sono l'ultimo anno pulcini l'anno prossimo inizieranno gli esordienti abbiamo anche chiaramente categorie sugli esordienti 2005-2006 numeri come diceva Paolo prima da capogiro perché per ogni categoria riusciamo a creare dalle 4 alle 8 squadre addirittura per ogni categoria? esatto sì 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 questo significa commitment significa essere sul campo presenza e tanti tanti bambini che ti girano intorno e la cosa fantastica è conoscerli tutti. Ecco forse la cosa che da casa magari potrebbe preoccupare per questi grandi numeri tanti giocatori iscritti tante tante squadre allenatori che seguono come si fanno a trovare gli allenatori giusti che possano seguire bene questi ragazzi alla fine un genitore cerca di far crescere le ragazze gran parte lo fa la scuola però lo sport è uno dei settori principali per quanto riguarda la crescita di un ragazzo allora quando vengono a darvi il loro ragazzo e dicono bene voi farete parte della sua crescita personale come fanno a fidarsi di voi che cosa che cosa che cosa ispira per portarli alla Lombardia 1 visto che sono così tanti giocatori? Certo la fiducia intanto te la guadagni col tempo Massimo ad esempio io sono in Lombardia 1 da 5 anni e la fiducia chiaramente dei genitori te la guadagni proprio lavorando e anno dopo anno incomincia a passare il messaggio giusto e i bambini arrivano i genitori arrivano e chiaramente si trovano bene passa parole di generazione in generazione e questo permette ti dà appunto la possibilità di avere il rapporto giusto col genitore il genitore è chiaro che affida il proprio bambino a un educatore in primo luogo è un educatore che accompagnerà il bambino nel percorso di crescita noi facciamo calcio senza dimenticare l'aspetto educativo chiaramente le regole non possono essere dimenticate all'interno di una squadra di un team bisogna insegnare al ragazzo a sapersi porre all'interno di questo team a condividere momenti e emozioni vittorie sconfitte e crescere tu fai parte cioè segui il settore preagonistico il che vuol dire che sono bambini che fanno anche dall'inizio il 3 contro 3 5 contro 5 7 contro 7 tutte le varie categorie ora la difficoltà in questi casi è nel rapporto con i genitori in tanti dicono bambini troppo piccoli hanno difficoltà perché sono abituati ad avere i genitori i genitori molto spesso non sono abituati a lasciarli liberi i figli soprattutto quando sono piccoli poi come come vi adattate ma allora diciamo questo che il problema più grosso che affrontiamo è proprio il la ricerca da parte del genitore di entrare quasi nel campo e pilotare il figlio in tutto quello che vorrebbe che fosse modello playstation esatto in realtà esatto questo è proprio in realtà il bambino va lasciato a se stesso va lasciato nella sua dimensione per quello che è per lui importante il gioco del calcio e l'allenatore deve deve cercare di capire e percepire raccogliendo dati fondamentalmente dal campo del bambino di quello che è necessariamente importante per lui all'interno di un esercizio all'interno di una seduta e piuttosto che meno importante ecco quindi cerchiamo di creare a questo punto gruppi omogenei anche basandoci su su questi dati che raccogliamo all'interno del campo per intenderci ci sono bambini per il quale il calcio è un fattore primario altri bambini che fanno calcio perché c'è il genitore che li porta o perché c'è l'amico che gioca c'è l'amico che e questo è importante ho tolto questo e allora come fate voi con il rapporto scuola studio gioco allora intanto sono un docente della statale insegno agli insegnanti quindi in teoria coltivo cerco di fare da tanti anni oramai più di dieci i futuri insegnanti e specifici del calcio e comunque che insegnano a scuola educazione fisica declinati nelle varie ordine gradile degli studi scolastici italiani conciliare sport e scuola in italia non è così facile noi purtroppo abbiamo una matrice purtroppo aggiungo latina dove lo sport non è così percepito come un momento educativo che che se ne dica purtroppo i latini considerano lo sport come un mezzo per arrivare a il successo sbarcare il lunario trovare la strada per gli anglosassoni e gli scandinavi considerano lo sport come un veicolo formativo tu dimmi come giochi poi io ti dirò come studierai ti dirò come lavorerai tanto bello purtroppo loro ce l'hanno come cultura noi ancora no forse non ce l'avremmo anche mai non voglio fare il pessimista ma il mensano in corpore sano è stato dimenticato? no 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 il mensano in corpore sano c'è anzi deve esserci ma è più un discorso come dire etico formativo il gioco che insegna a giocare il gioco che insegna a stare sulla terra in tutti in tutte le dimensioni dell'umana vanità o relazione tu sei un giocatore come dire furbetto sarai un uomo furbetto sarai un uomo che cerca di scanchignare gli impegni per noi non è così o comunque lo diciamo quando siamo seduti in campo l'importante è che tuo figlio faccia gol o faccia in fretta se lo fa di mano fuori gioco e ti hanno dato un rigore che non c'era va bene lo stesso è un problema è un problema perché poi sarà un lavoratore un po' particolare non mi fate aggiungere cose peggiori di quelle che io ho già detto l'esempio televisivo dei grandi campioni viene seguito dai ragazzi? assolutamente sì purtroppo quindi la simulazione? tutto loro seguono tutto loro sono delle spugne quindi sì e ovviamente come per tutti è più facile imparare una cosa come dire che ti fa da scorciatoia e quindi non così educativa che non un esempio di grande educazione e formazione ma non l'educazione quella intorno alla quale come dire non mi devi dire le parolacce preferisco una parolaccia magari se la evitiamo soprattutto sulle categorie dove lavora Massimo sicuramente sì ma magari poi tu sei un giocatore corretto sei uno che sta alle regole quelle importanti di relazione ecco questi sono i punti secondo me più importanti questi sono i motivi per cui ho fondato una società sportiva piuttosto che non una scuola e allora la formazione dei vostri allenatori avete tanti allenatori circa il numero? due per squadra? magari non abbiamo due allenatori per squadra sarebbe molto bello ma vorrebbe dire averne 120 solo sulle squadre più i portieri più i preparatori comunque ne avete tanti come fate a prepararli? perché alla fine la preparazione degli allenatori è tanto importante quanto poi la preparazione degli allenatori per i giocatori sì assolutamente ma diciamo che sono i punti di criticità della gestione di una società sportiva la formazione dei tecnici o quantomeno il loro aggiornamento perché poi paradossalmente quando arrivano sono sempre come dire ben disposti, preparati hanno titoli, esami, hanno i corsi noi facciamo corsi interni io fino a prova contraria sarai il presidente dell'associazione allenatori calcio di Milano cioè sono quello che li forma il problema è che poi dopo un po' mi dispiace dirlo ma perdono il senso del perché allenano dopo un po' si dimenticano e soprattutto la cosa peggiore pensano di tra virgolette utilizzare il settore giovanile come un veicolo di lancio per la loro carriera sportiva non è così l'allenatore di settore giovanile è un artigiano farà sempre soltanto quello non puoi passare dal settore giovanile perché un domani vorrai allenare una prima squadra importante tu passi dal settore giovanile perché lì tu starai ma per sempre potrà cambiare il livello dal settore giovanile di una squadra dilettantistica che fa i provinciali a una che fa i regionali a quella che fa i regionali d'eccellenza fino ai campionati giovanili di Lega Pro, di Serie A, di Serie B ma devi, è una cosa proprio che chiedo devi rimanere nel settore giovanile e le qualifiche della UEFA e della federazione lo dicono i UEFA-C, per fare un esempio, sono allenatori che decidono e dicono al mondo io allenerò sempre un settore giovanile certo che vorrei allenare gli allievi nazionali del Milan, per fare un esempio però mi occuperò sempre di settore giovanile ecco, una cosa che mi è venuta in mente ma quando, molto spesso, quando si studia questo arriva nel mondo del lavoro che si è studiato tanto ma non si sa lavorare succede la stessa cosa con gli allenatori ovvero fanno tanti corsi, tanti corsi di aggiornamento e quant'altro poi, quando ti ritrovi sul campo, quello che ritrovi non è esattamente la stessa cosa che hai sentito nei corsi, che hai letto sui libri, che hai letto nelle brochure in parte sì, in parte sì, ma è un discorso anche di... qual è la cosa che cambia totalmente? il buon senso, alla fine è il buon senso tu puoi essere anche l'allenatore più preparato della terra ma non hai il percepito della dimensione dove stai lavorando cioè sei convinto di allenare il Manchester United e non la Lombardia 1 e tu alleni come se fossi al Manchester United o Manchester United, come direbbero quelli che parlano meglio di me è un problema, è un problema, è un discorso di buon senso, è un discorso proprio di capire con chi stai operando in fondo sono bambini in età evolutiva uno su quaranta mila farà il giocatore di calcio professionista uno su quaranta mila ce la fa uno su quaranta mila e io mi dico, ma gli altri che non ce la faranno, di quelli ci dobbiamo occupare, di quelli lì il vantaggio anche per chi non ce la fa è che se poi sa giocare a calcio fa un sacco di amicizie durante la vita gioca a calcio in vacanza e chi gioca a calcio fa amicizia più facilmente, questo è un classico è vero Paolo, no, Massimo, io ho un'altra domanda allora, si parlava di genitori allora, prima cosa, genitori studio se un vostro studente, se un vostro giocatore va male a scuola come fate? è arrivato una brutta pagella, non ve lo porto più a campo allora, questa, ti parlo un po' per deformazione professionale, personale io cerco molto il contatto con il genitore proprio perché credo che come educatore io non possa dimenticare tutto quello che succede fuori dal calcio perché il bambino io devo saperlo accogliere devo sapere che cosa gli succede intorno per poi pretendere da lui qualche cosa e con i genitori c'è questo interscambio il bambino risponde molto bene è molto bravo, si allena molto bene però a scuola non studia arriva a casa, i compiti non li fa e qui dobbiamo trovare il compromesso giusto e quindi c'è un'intesa tra l'allenatore e il genitore serve proprio per stimolare il ragazzo tu puoi fare una cosa se fai bene quella più importante che è lo studio, la scuola comportarti bene a casa e che è difficile farlo capire quando hanno il sogno di diventare grandi calciatori bisogna giocare a calcio, vai in fissa e pensi solo a quello è vero, assolutamente vero però credo che sia un nostro dovere quello di non dimenticarci di questo aspetto che è un aspetto di vita importante insomma anche io sono stato un ragazzo quando andavo a scuola non studiavo però oggi dico cavolo forse era meglio studiare un po' di più chiarissimo allora invece adesso e questo l'ho chiesto un po' a tutte le società che sono venute qui voi avete un vademecum da consegnare ai genitori in cui gli dite esattamente cosa non possono fare allora ho visto un gesto chi ci sta guardando in streaming avrà notato il gesto del ditino che vi negava ma allora non c'è un vademecum scritto ma ci sono delle regole non scritte quindi sono orali e allora come se io fossi un genitore che arrivo, ti lascio il figlio e tu mi devi dire esattamente cosa non posso fare tot regole non posso entrare in campo allora non posso entrare in campo no no mi devi dire proprio non puoi entrare in campo allora bene guarda se vuoi che tuo figlio giochi con noi sì non puoi entrare in campo ma se piange e si fa male non posso andare lascia perdere si rialza e gioca nel giro di qualche secondo e giro di giocare con gli altri perfetto poi poi lascia perdere suggerimenti dal bordo campo è meglio stare zitti piuttosto che incitare troppo il proprio figlio ma non posso fare il tifo per mio figlio? assolutamente il tifo è necessario è necessario devi far sentire il supporto proprio come nei migliori stadi ma deve essere un supporto sportivo al giochiamo forza dai che vinciamo insomma non deve essere incitare dai devi giocare meglio insomma perché fai così io vedo genitori che intervengono in maniera assolutamente devastante rispetto a questo in quanto genitore che sto guardando la partita posso commentare l'operato dell'arbitro? guarda entriamo ci sono degli arbitri che vanno commentati e questo un po' nel loro ruolo un pegno che devono pagare però c'è sempre il limite come diceva prima Paolo in tutti gli ambiti il buon senso è la prima cosa anche negli sfottò tra gli sportivi tra i supporter c'è sempre il buon senso non bisogna mai varcare quella soglia che diventa l'offesa diventa il primo ricordiamoci anche che nell'attività di base non c'è neanche l'arbitro federale sono dirigenti 10 su 10 comunque in qualche rarissimo caso di qualche società che secondo me vuole fare di più di quello che serve gli arbitri sono o dirigenti accompagnatori o genitori comunque tesserati della società o giocatori dell'agonistica o giocatori della prima squadra per chi ce l'ha certo cioè non ha senso tra l'altro meno male che esiste l'auto arbitraggio sulle categorie ancora più piccole vero però non mi distraete perché io da genitore che sto portando un figlio a Lombardia 1 ho un sacco di altre domande per esempio ma mio figlio non si sa allacciare le scarpe lo posso aiutare? posso andare nello spagliatoio? posso asciugarlo? cerchiamo di non farli mai entrare in spagliatoio no no io faccio il solito ragionamento il solito paragone magari anche stupido ma non lo è non credo che sia così stupido a scuola quando li portano lo lasciano il bambino poi è finita io dico sempre una roba invece questo è importante è un discorso di fiducia che poi la fiducia sfocia nella fede se tu ti fidi ti devi ma ti devi fidare fino in fondo fidarsi a metà ci crea solo problemi allora piuttosto preferisco uno che venga come in questo momento tu stai recitando la parte di quello che ci fa 700 domande e poi in più aggiungi me lo dici bene io l'ho portato da lei perché lei era solo quella più comoda va bene non fidarti allora a quel punto e vai avanti a non fidarti quindi metti il becco ovunque uno dei motivi per cui i nostri dirigenti accompagnatori per esempio sono tutti tutti nel 90% dei casi dei genitori dei nostri tesserati chiaro le società sportive dilettantistiche del nostro livello non potrebbero fare diversamente noi stiamo in piedi con una voce che è banalmente riassumibile volontariato sportivo volontariato degli allenatori volontariato dei genitori volontariato di chiunque voglia darci una mano noi oggi siamo un'agenzia educativa parlavamo prima i concessionari del settore sport che hanno in mano il 98% degli impianti milanesi ma come potrebbero stare in piedi se non ci fossero i volontari è un sistema che crolla è un sistema che crolla con costi per tutti i cittadini alla fine noi siamo un esempio di volontariato divertente che deve essere continuamente come dire alimentato e la figura del genitore è fondamentale ecco per esempio come fate i controlli interni allora se io porto mio figlio in una scuola in una scuola calcio ovviamente devo fidarmi e su quello non ci ci metto la mano sul fuoco ma voi come fate fate i controlli interni in modo da essere sicuri che i vari allenatori dirigenti non siano violenti con i bambini non siano pedofili tutte quelle cose che potrebbero succedere e che ovviamente voi dovete evitare che controlli fate? allora noi abbiamo una struttura essendo tante squadre tra l'altro noi abbiamo una struttura piramidale che è fatta da vabbè la dirigenza vera e propria ma che siamo pochi il responsabile per ogni centro che è già uno che ha come dire un compito direttivo di tutto il centro sportivo Lombardia 1 è costituita da quattro centri sportivi quindi comunque sono sempre quattro referenti del centro sportivo i referenti delle sezioni agonistica preagonistica controllo incrociato piramidale controllo incrociato e scuola calcio e i referenti di categoria capite benissimo che una società che ha otto squadre per annata otto squadre dalle altre parti magari sono una società intera quindi noi abbiamo i responsabili di categoria il punto è che purtroppo tutte queste figure spesso e volentieri collaborano qualche volta no e quando iniziano a farsi il loro orticello di solito succede questo che le colpe sono sempre della società ma dovrebbero dire di Paolo Gatti perché proprio è così io ho le spalle larghe peso 100 e passa chili ma sono un po' stanchino di prendermi le colpe degli altri che non hanno la come dire io aggiungo senza polemica la natura come dire la decenza fatemi dire sta parola di assumersi delle colpe piccole che magari sono negligenze che magari sono dimenticanze che però moltiplicate per 60 squadre 365 giorni all'anno per 24 anni e io una volta ero bello magro con i capelli come Massimo guardate come mi sono ridotto adesso a furia di ingoiare nervosismo dagli altri e dunque ufficiale se dovete fondare una squadra di calcio giovanile state attenti perché le pressioni sono veramente tante ed è un lavoro bello duro ecco però ci sono anche tante soddisfazioni per esempio la Lombardia 1 gioca con una maglietta rossonera e già di per questo sarebbe una grande soddisfazione almeno per quanto mi riguarda per quanto riguarda i miei gusti ma lo fate perché siete un centro tecnico del Milan allora esattamente perché ci sta ascoltando da casa che cosa vuol dire essere un centro tecnico del Milan giocare con la maglietta rossonera esattamente allora intanto devo fare un minimo di introduzione proprio minima noi nel senso la società che gestisce che ha fondato Lombardia 1 vent'anni fa creò il progetto giovani del Milan insieme con la direzione commerciale del Milan quindi noi comunque siamo nati insieme con una sezione del Milan che era il progetto giovani insieme con noi dobbiamo tutto al Milan quindi non è solo un discorso di maglia in questi vent'anni è successo di tutto e piano 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 purtroppo oggi siamo in una situazione così un po' congelati perciò per risponderti devo dire che noi siamo stati la prima scuola calcio a Milan io sono stato il coordinatore dei Milan Junior Camp di tutto il mondo 15.000 bambini 684 allenatori 225 sedi di scuole calcio estive nel mondo io e la Lombardia 1 io e loro o loro ed io scegli tu chi vuoi mettere per primo oggi siamo un centro tecnico Milan che vuol dire come dire quella società che è appena appena sotto il settore giovanile del Milan capisci bene che questa cosa si può verificare solo sull'attività di base quindi un ragazzo che gioca da voi ha più possibilità di essere osservato da un osservatore del Milan noi abbiamo un osservatore permanente tutte le settimane tutti i giorni sempre quindi anche durante gli allenamenti e comunque sempre durante i sabati e domenica e probabilmente un osservatore non basta per esempio perché siamo quattro centri l'osservatore non ha il dono dell'ubiquità ma le altre società professionistiche non vengono a vedere vengono 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 tutti viene anche l'Inter tanto per essere chiari vengono tutti noi siamo aperti a tutti perché purtroppo capite benissimo che mandare giocatori al settore giovanile del Milan non è facile noi ogni anno 4 o 5 dall'attività di base li mandiamo sono stati anni in cui sono andati anche in 10 in questo momento il portiere della primavera il capitano della primavera Elilali e Guarnone sono due giocatori della Lombardia 1 va bene è troppo facile adesso venire qui e dirvi l'elenco dei giocatori che abbiamo mandato al settore giovanile del Milan in tutti questi anni il figlio di Maldini passò da noi ovviamente appena potuto giustamente è andato a casa sua casa sua casa sua era il Milan detto questo è un compito veramente molto difficile cioè ci siamo scelti una società troppo importante per poter avere benefici su tutti i nostri tesserati cioè mi spiego meglio io non posso mandare mille giocatori all'anno al Milan chiarissimo è così normale da capire quindi i genitori lo capiscono no non lo capiscono no è ufficiale no non lo capiscono non lo capiscono genitori a casa genitori bambini che giocano nella Lombardia 1 il Milan ha una squadra sola non possono andare tutti ma non solo noi cerchiamo di mandarli anche nelle altre squadre ma anche lì non è per tutti è certo è per tanti ma non per tutti ma a che età si capisce se un giocatore ha la testa per diventare davvero un giocatore per me dai 12 anni a salire prima eri di coloparlarne comunque si vede la qualità si vede il bambino la predisposizione l'intelligenza il gesto io ci tengo molto a dirlo io ho fatto il corso d'allenatore professionista in Spagna nel 2005 era già all'epoca del tiki taka? è certo è una cosa atavica per loro è come per noi parlare di spaghetti di marcatura uomo dai no spaghetti preferisco in questo momento visto che il calcio non va così bene invece il food ancora andiamo anche in televisione anche in televisione detto questo io sono quello che portò una relazione a Coverciano sul calcio spagnolo nel 2005 io vi ricordo nel 2006 abbiamo iniziato il mondiale anche Coverciano si stupì della mia relazione io sono stato un docente ai corsi di aggiornamento a Coverciano al settore tecnico io dissi guardate che questi per i prossimi dieci anni ci devastano è proprio un modello di allenamento diverso dal nostro ma il cambiamento così a grandi linee che a me viene in mente è quello che noi prendevamo giocatori più fisici da creare calcisticamente loro partivano da giocatori più tecnici da perfezionare adesso è ancora così o è cambiato nel senso gli osservatori del Milan dell'Inter e di tutte le altre società professionistiche che vengono a prendere i ragazzi alla Lombardia 1 li vengono a scegliere per le qualità fisiche o per le qualità fisiche e tecniche insieme o soltanto per le qualità tecniche un Messi quando era ragazzino aveva anche problemi di crescita immagino fosse assolutamente sotto la media di quelli della sua età in Italia l'avrebbero preso? in Italia lo scartarono vi ricordo che fu scartato dal Como per i problemi di nanismo non latente era conclamato detto questo come dire i parametri dello scouting italiano negli ultimi anni sono molto cambiati ma non potevamo fare diversamente non più armadi a due anni? no non più così la valutazione è veramente a 360 gradi e l'intelligenza calcistica e valutarla secondo me è il parametro più importante noi loro meno male grazie anche ai lavori di ricerca che ho fatto sull'attività non l'attività di base ma comunque la preagonistica l'agonistica noi usiamo un metodo che si chiama periodizzazione tattica che arriva dalla scuola spagnola non viene usato con tutti perché comunque ha problematiche di carico mentale importante e ancora i nostri giocatori non sono così abituati a come dire a soggiacere a questo carico i nostri preferiscono ancora farsi delle sane corse e ha voglia spiegargli che Messi ha detto io ho corso il 3% dalla gara l'ultima partita che ho fatto di livello internazionale qui ancora si misura il carico fisico si dice ancora che la squadra è indietro fisicamente io ultimamente con una mia squadra non faccio nomi e neanche cognomi mi è stato chiesto come mai non corriamo più come prima e io volevo dirgli corrono i cavalli e i soldati i giocatori di calcio si spostano i bersaglieri in dettaglio certo allora adesso ci dobbiamo fermare per un attimo di pausa ma prima della pausa volevo dire che è arrivato un messaggio da un genitore di un bimbo che gioca nell'attrizium ed dice è sempre un piacere giocare contro la Lombardia 1 allora dopo parliamo proprio dell'attrizium ma la squadra di Treviglio parliamo magari di quali sono le squadre con cui mi piace maggiormente giocare e soprattutto vincere allora un attimo di pausa e poi torniamo qui a primi calci di nuovo a primi calci la trasmissione dedicata al calcio giovanile è dilettantistico e subito mi fanno notare da casa giustamente che l'attrizium non è di Treviglio ma è di Trezzo sull'Adda la zona è quella ho sbagliato di pochi chilometri chiedo venia chiedo perdono continuiamo a parlare di calcio parliamo di calcio giovanile con la Lombardia 1 e oggi pomeriggio qui in studio abbiamo una delle società giovanili più importanti d'Europa anche perché nel settore giovanile ha fatto proprio la propria missione tant'è che non hanno neanche la prima squadra ma parlano soltanto 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 di bambini e uno su 40.000 ricordo che ce la farà e questa è la cosa più importante allora continuiamo a parlare con Paolo Gatti che è uno dei fondatori della Lombardia 1 e io ho una domanda facendo il gioco di prima se io fossi un genitore che arrivo a portare il ragazzo da voi la prima domanda che vi faccio appena il bambino non lo ascolta è di ma quanto mi costa iscrivere il ragazzo alla vostra scuola calcio costa secondo me ancora molto poco rispetto comunque agli altri sport costa 350 euro all'anno più l'abbigliamento che il kit completo costa 160 euro diciamo che se tu conti le ore che il bambino sta impegnato credo che sia il calcio ancora uno degli sport più economici d'Italia allora visto che abbiamo parlato di costi questa volta passo il microfono a Massimo Massimo visto che il tuo settore queste domande sono per te allora mettiamo il caso che invece di avere un bimbo o una bimba però appassionatissima di calcio che vuole giocare a calcio come fa? Può portarlo alla Lombardia 1? Assolutamente sì fino a 12 anni di età possono giocare quindi con i maschietti non è assolutamente un problema noi siamo strutturati abbiamo una nei quattro centri sportivi avendo a disposizione tanti spogliatoi chiaramente usufruisce di uno spazio diverso per la fase di preparazione all'allenamento e poi fanno l'allenamento normalmente come i maschietti ma le ragazze giocano con i ragazzi di un anno e meno? Alcune società fanno così anche voi? Assolutamente sì 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 assolutamente quindi giocano con i bambini di sotto età di un anno più piccoli e abbiamo avuto anche discrete bambine che sono andate poi a giocare al Milan e all'Inter assolutamente ma in questo caso come funziona? poi una volta finito il settore giovanile delle ragazze 12 anni avete dei contatti anche con società femminili di calcio dove indirizzarle mandarle squadre vere di calcio femminile assolutamente l'indirizzo nostro poi è proprio quello fatto il calcio base indirizzarli verso una società che propone la categoria femminile con una squadra completa e certo questo credo che sia un po' il sogno di tutte le ragazzine che approcciano al mondo del calcio e ce ne sono tante ce ne sono tante ce ne sono quindi arrivano e invece per quanto riguarda gli stranieri come vi comportate? assolutamente ci sono problemi illegali in alcuni casi intanto burocratici più che legali esatto burocratici sono legati ai documenti quindi ci vuole assolutamente regolare permesso di soggiorno devono avere la cittadinanza altrimenti credo che il trasferimento non avvenga e quindi questa è la prima cosa di cui bisogna accertarsi perché purtroppo a volte ti interfacci con genitori che a fatica parlano l'italiano e comprendono è più facile che i ragazzi la parlano meglio magari è più facile esatto tante volte il bambino ti fa da da traduttore da intermediario e quindi questa è la prima cosa verificare che abbiano tutti i documenti regolari perché altrimenti non possiamo testerarli ecco dopodiché le regole sono uguali per tutti e quindi cerchiamo di introdurli al meglio nel migliore dei modi per i bambini per i più piccoli magari è un momento di sorpresa ma credo che giocare in una squadra in un team l'aggregazione permetta l'inserimento in maniera molto facile e spontanea di qualsiasi bambino certo ecco strada facendo quando a che età si inizia a parlare di schemi di moduli di diagonale del raddoppio tutte quelle cose un po' classiche da che età allora sicuramente fino ai dieci anni è molto complesso pensare e sbagliato credo pensare di inserire delle fasi di gioco che permettano ai bambini di muoversi in maniera sistematica o con una strategia anche se su piccole situazioni le puoi introdurre come una fase da una palla inattiva quindi una punizione piuttosto che da un calcio d'angolo creare quelle due o tre schemi che permettano loro di sentirsi dei grandi campioni e magari raccogliere in maniera rapida ed efficace il risultato con il gol e questo funzionano questi schemi perché non c'è la contromossa da parte degli avversari perché a volte sono ancora inaspettati e quindi non si è pronti oi boh ha fatto un 1-2 ma che sorpresa allora lasciamolo segnare però è sicuramente molto presto soprattutto se consideriamo che giochiamo fino ai 10 anni giocano un calcio a 7 poi viene introdotto il calcio a 9 e poi incominceranno fra 3 anni il calcio a 11 calcio a 11 da che categoria si inizia a giocare? beh finito il secondo anno esordienti quest'anno hanno iniziato sulla provincia a Milano hanno iniziato a giocare il calcio a 11 allora adesso continuiamo parlando di un'iniziativa di un torneo davvero interessante si chiama School Cup 2018 e ovviamente organizzato da Lombardia 1 ed è una cosa davvero particolare perché i finalisti di questo torneo giovanile andranno a giocare niente po' po' di meno che a San Siro e che grande esaltazione Paolo raccontaci di questa iniziativa come funziona chi può iscriversi quanto costa wow un sacco di domande se te ne dimentichi qualcuno ci penso io me le ricordo perché è un recupero di una vecchia iniziativa di quasi 20 anni fa grazie alla quale poi fondammo proprio Lombardia 1 quindi noi siamo molto legati a questo tipo di attività questa diciamo un nuovo recupero di School Cup è già comunque la quinta edizione quindi sono 5 anni che noi portiamo tanti bambini dell'età della scuola elementare quindi ultimo anno dell'asilo i remigini per intenderci scuola materna e i 5 anni degli elementari è un torneo di calcio a 5 è completamente gratuito devono solo tesserarsi per un ente di promozione sportiva il costo è ridicolo mi pare 10 euro ma è un discorso puramente assicurativo e di tutela ed è un torneo rivolto a tutti possono iscriversi le società sportive ma in verità la cosa che a noi interessa di più è che si iscrivano quelli che non hanno la fortuna di giocare un calcio organizzato qui ci sono i concetti del recupero del calcio da strada qui basta un adulto con un minimo di buona volontà che abbia voglia di far giocare il figlio e almeno altri 5 e 6 amichetti che possono essere compagni di classe o di scuola o anche del condominio non so come dire o con cui va a giocare al giardino si mettono un nome di fantasia prendono 4, 5, 6 canottiere bianche e si pasticciano il numero con il pennarello e noi li facciamo giocare per tutto il mese di maggio e la finale il 23 maggio a San Siro è secondo me una bellissima iniziativa a cui io sono legato anche proprio a livello affettivo e che secondo me ha grande valore la Lombardia 1 che noi rappresentiamo mette i propri centri sportivi gratuiti per tutto il mese di maggio quindi vuol dire almeno fare tre partite nel quadrangolare riservato a tutti e ci sono tutto il mese di marzo e tutto il mese di aprile per i tempi per iscriversi da settimana prossima inizieremo a volantinare in 80-90 scuole elementari di Milano e provincia ma in ogni caso si può andare già sul sito che è stato creato apposta che si chiama School Cup oppure il nostro sito della Lombardia 1 o comunque iniziare a vedere la carta che gira che è questo volantino qua proprio non so se si vede da casa lo stanno vedendo lo facciamo così che magari in streaming lo vedono che è anche il modulo che è il modulo di iscrizione il volantino è proprio il modulo a noi serve solo un adulto con grande voglia di far giocare dei bambini quindi io ho i miei compagni anzi il mio figlio ha i compagni di classe che vogliono giocare a calcio li prendo li iscrivo a Lombardia 1 o in internet o vengono direttamente da voi si possono iscrivere gratuitamente a questo torneo e se sono forti arrivano a giocare la finale a San Siro ma non dopo una partita prima della partita no no il 23 maggio è proprio la settimana che inizia durante la quale sono finiti tutti i campionati tutti i campionati prima dei grandi concerti su San Siro bravissimo quindi l'erbetta c'è ancora è perfetto il campo è bellissimo il 21 mi pare che ci sia la zio al calcio di Pirlo non vorrei dire una stupidata quindi due giorni dopo con il campo in perfette condizioni i nostri bambini calcheranno lo stadio San Siro che è sempre è bellissimo noi cerchiamo di montare il più alto e grande numero di campi di calcio 2-5 perché poi speriamo davvero di avere tanti bambini però verranno solo le finaliste perché ancora non abbiamo deciso la formula proprio quella finale dipenderà dal numero di scelte bravissimo noi ci aspettiamo di fare visto che stavolta siamo partiti per tempo grazie anche all'aiuto di oggi mi auguro che inizi a girare la voce noi ci aspettiamo di fare 64 quadrangolari quindi vuol dire 64 finaliste a San Siro questa è la mia idea wow e questo è davvero bello poi è un'esperienza che sicuramente i bambini ricorderanno a lungo io ho giocato sul campo di San Siro esattamente dove Reikard aveva scutato l'ho già presa quella zona l'ho già portata a casa io dopo il concerto di Vasco Rossi hai fatto bene finito il 90 no ci tenevo hai fatto bene e allora abbiamo parlato di questo torneo che è assolutamente e lo ricordo è gratuito per cui fate davvero le squadre di bambini e portateli a fare questo torneo alla Lombardia 1 vi potete scrivere è gratuito chi verrà a San Siro a vedere pagherà il biglietto no no è tutto libero è una giornata proprio di festa tutto gratuito ci saranno anche altri eventi collaterali però intorno ai quali noi non ce ne occupiamo quindi non voglio dire cose che non conosco e poi è presto e poi è molto presto noi sicuramente faremo una parte dedicata agli allenatori che invitiamo appunto a portare i loro bambini a giocare verrà fatto loro un clinic informativo proprio sulla periodizzazione tattica alla fine della giornata quindi vengono giocano con i loro bambini e fanno un corso di aggiornamento un incontro di aggiornamento proprio questo hai detto esattamente un clinic di informativo gratuito sulla periodizzazione tattica ecco allora traduciamolo per i genitori a casa per i non addetti ai lavori un bel corso di aggiornamento in cui si spiega che cosa che cosa è la periodizzazione tattica italiana perfetto più di così quasi quasi mi scrivo il nostro regista è convinto è convintissimo sarà uno di quelli che porta i compagni di classe molto bene allora invece proprio questa cosa di prezzi settore giovanile voi avete tanti bambini tante squadre che sono venute qua abbiamo chiesto ma voi quando ci sono le partite in casa fate pagare il biglietto d'entrata anche voi immagino lo farete pagare certo quanto costa l'entrata da voi da noi costa 3 euro il biglietto d'ingresso ma 3 euro in media credo che sia una media sull'area Milano abbiamo provato a trovare campi dove il costo è molto più alto qualche genitore si lamenta sì immagino anche perché uno si fa la trasferta porta il figlio deve pagare anche magari se porta la nonna e la zia ti farei ancora peggio ma invece per quanto riguarda i vostri centri sportivi avete ben 4 centri sportivi sintetico o erba da noi tutti i centri sono su campo sintetico e anche direi abbastanza recenti magari Paolo sei un po' più aggiornato di me quindi ultima generazione quelli morbidi e tra l'altro forse non lo sapete ma tante mamme ci scrivono felici di sapere questa cosa perché i bambini arrivano a casa senza il fango nelle scarpe senza i pantaloni sporchi ecco questo è un aspetto di convincimento che io utilizzo spesso che è proprio quello che offre Lombardia 1 che è un allenamento su un campo sintetico di ultima generazione questo significa scarpe sempre pulite allenamento su un campo perfetto e la possibilità di insegnare il calcio in un certo modo credo che questo non sia un aspetto irrilevante ecco certo tanto si può fare addirittura un mega spot ovvero il calcio giovanile è un calcio pulito in tutti i sensi adesso sì così ancora di più pulito fuori pulito dentro ma ci sono casi di doping a me viene in mente questa cosa perché per esempio nel ciclismo e purtroppo l'ho sentito da un po' di voci anche nelle giovanili per farle andare avanti a un certo punto devono fare una scelta se entrare in quel mondo in una determinata maniera o uscirne definitivamente nel calcio non è così no no non solo secondo me non ha neanche quasi senso parlarne ma hai fatto benissimo invece a tirar fuori l'argomento perché è una roba per noi lontanissima cioè proprio non ha senso la faccio degli esempi vado oltre nelle rare occasioni in cui fortunatamente sono riuscito ad allenare nei professionisti dove ci sono dei momenti di confronto i miei giocatori imparavano che c'era il doping e o la possibilità purtroppo delle scommesse sulle gare perché qualche adulto preposto dagli organi di controllo glielo spiegava non so come dire forse era meglio neanche dirglielo perché ringraziando Dio il calcio giovanile e il tuo slogan è già mio è pulito in tutti i sensi quindi non c'è doping non c'è assolutamente il discorso delle scommesse è una roba da folli anche pensarlo non so come dire scommesse sul calcio giovanile sarebbe davvero da folli dicono che qualche campionato professionistico primavera e oberretti venga nei paesi asiatici usato per dicono io non l'avevo mai sentita ma l'hanno spiegato ho riso come stai ridento tu adesso ma non me la schia in Asia sono strani non mangiamo neanche con le forchette non le bacchette ma neanche io con le mani io quindi io non mangio la pasta io non mangio la pasta ecco per quanto riguarda l'alimentazione per esempio dei vostri ragazzi avete dei corsi spiegate come alimentarvi per una crescita più sana cioè c'è anche questo aspetto che curate allora non è un aspetto che curiamo direttamente anche se ogni tanto c'è qualcuno che si lancia in nell'affrontare queste tematiche ovviamente le indicazioni che diamo noi sono indicazioni da sportivi quindi quando mangiare cosa mangiare e indirizzare il genitore in modo da avere il bambino quando arriva giù per la partita o l'allenamento non bello pieno di dolci o pasta perfetto questa è una domanda che volevo farmi ogni settimana me lo dimentico ma oggi finalmente me lo ti mente allora domenica c'è la partita alle due come faccio a far mangiare il bimbo cosa gli faccio mangiare quando glielo faccio mangiare allora qua entriamo è un domandone perché bisogna si entra in un aspetto assolutamente solo presaola lenzaghi o riso in bianco dimmi tu ma guarda io ti dico c'è anche chi preferisce un bel piatto di pasta si può assolutamente quante ore prima beh direi che almeno il tempo di digerire di assimilare esatto quanto quanto hai mangiato quindi quelle due ore due ore e mezza prima direi che siano necessarie anche perché l'oretta prima è un dato di fatto non va bene ma invece c'è lo zuccherino tipo cavallo quello funziona molto spesso a fine primo tempo tac non si usa più il tè caldo molto zuccherato di una volta ma le caramelle zuccherate sì quelle servono o sono un pagliativo che ti dicono correrei di più beh non è la 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 volontà la ricerca della prestazione quanto l'energia giusta per il bambino per affrontare magari in una giornata troppo calda o in una giornata di calcio così lunga che veramente inizi magari alle nove del mattino e finisce alle cinque le sei del pomeriggio arrivano sfiniti e un po' di energia bisogna dargliele non tanto per arrivare ad avere una performance elevata quanto per permettergli di stare in piedi quindi caramelle cioccolato zuccheri assolutamente sono consigliabili allora siamo quasi in chiusura ma c'è il tempo e questo è assolutamente necessario per dare gli indirizzi le indicazioni per trovarvi allora io ho un figlio voglio iscriverlo alla Lombardia 1 perché ho sentito questa trasmissione non c'è altro motivo no ci sono tanti altri motivi ma questo è un motivo in più come fa a trovarvi abbiamo ho già sentito che esiste un sito lombardia1.it immagino è pala1.it e prossimamente quello nuovo che insomma siamo un pochino in ritardo nel rifarlo sì no che sarà proprio punto lombardia1.it ok allora come vi trovarvi ma di là del sito ci sono i quattro centri sportivi che coprono quattro zone di Milano che vuol dire il centro sportivo Pozzo Aniguarda il centro sportivo Lombardia 1 in Gallaratese in Via Cilea il centro sportivo pala1 in Giambellino che è anche come dire il quartier generale e la segreteria generale quindi se vai là ti danno tutte le informazioni anche di giorno e il centro sportivo Sant'Ambrogio in zona Barona ovviamente i tre centri sportivi diciamo così i periferici sono aperti dalle quattro del pomeriggio in poi il pala1 è sempre aperto dal lunedì al venerdì dalle nove a mezzanotte quindi è impossibile non trovare qualcuno di noi quindi consigliate se uno deve andare non ha tempo Giambellino vi trova Giambellino ci trova sempre negli altri centri vede se è possibile andare nel tardo pomeriggio e c'è sempre il mio referente per ogni centro che mi auguro dia informazioni corrette precise e puntuali allora io vi faccio davvero i complimenti grazie a te per tutto quello che state facendo e la dimostrazione è anche queste quattro sedi in quattro zone periferiche della città in cui c'è davvero bisogno di portare i ragazzi a fare sport e non altro farlo in questa maniera a me piace molto davvero davvero grazie allora grazie a Paolo Gatti uno dei fondatori di Lombardi 1 grazie grazie a voi e grazie anche a Massimo innamorato e buon lavoro grazie a tutti grazie a tutti quanti Primi Calci vi dà appuntamento a settimana prossima ma rimanete su Radio Milan Inter perché anche le trasmissioni a seguire sono veramente interessanti ciao a tutti Primi Calci Primi Calci Primi Calci Primi Calci